Le commissioni di Maurizio Lupi sono un atto dovuto, ma Renzi deve imprimere un cambiamento, una svolta, non può cavarsela col silenzio. Questa vicenda ha segnato un pezzo consistente della vita del suo governo e ora che tornino al centro i temi della precarietà, del lavoro, dei diritti e che la corruzione venga davvero combattuta, perché nel sistema delle grandi opere questo tema esiste e non può essere rimosso.